Ditemi se voi ci riuscireste, i miei amici per vendicarsi del mio griffa alla loro casa, mi hanno rinchiuso in una prigione con varie trappole da superare, mi hanno rapito con dei rampini, costretta ad una contaminazione e rinchiusi in varie trappole, in particolare mi hanno portato in un parkour, con un mob da dover uccidere, che mi ha dato uno slime block, e l'unico blocco recuperabile è una crafting table e degli stick, ho cercato a tutti i costi di riuscire a superare questo parkour, perché so che si può fare, ma non ci sono riuscito, Dammi una mano nei commenti e guarda il video completo per non perdertelo